Controllo, prova a difendere il pallone, lo allarga bene, verso Gnocchi, ora il cross in mezzo, reso Stuvani, arriva Prienza, in sinistro il gol della regina, che passa in vantaggio con Prienza. Sissacomette fuori, non è finita, arriva a sinistro, la conclusione sporca, Prienza, 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 rete, rete! Sissacomette fuori, non è finita, arriva a sinistro, non è finita, arriva a sinistro, che l'uscita, la regina soffre per 33 minuti e poi passa in vantaggio. Joelson al posto di Modesto, Amoruso, l'asconda, Prienza carica il destro, Prienza che gol, salva la regina Prienza, 1-1. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Brienza, Brienza sul destro, Brienza chiude, eccolo qua il gol del raddoppio. Brienza a ubriacare mezza difesa del Mantua. Carmona in mezzo, serve Brienza, può andare a tiro, Brienza la botta ed è il gol! Un falso rimbalzo e la palla che va in rete. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.